Allora siamo qua uno albanese e uno pugliese di Taranto, buonasera, buonasera Fratello, te la piace Mercedes o no? No, Mercedes è per albanesi, ma senza dire niente, però io ho una macchina speciale Solo 40 pezzi stanno 40 pezzi? Speciale, sì, edizione limitata Fammela vedere Allora, fammela vedere Fiat 500X, verde opaco Questa Fiat è qua? Sì, solo 40 pezzi in Italia In tutta Italia 40 pezzi? Sì 40 pezzi in tutta Italia Sono forte, però Non sono sicuro Questa sera solo 39 puoi trovare Perché questa sparisce questa sera